Dunque, Nicola e Dario, che dire, un grande grazie per darmi la possibilità di ricordare sempre il mio figlio anche a Piazza. Grazie. Carmine è un amico di infanzia, un amico di Eboli, quindi del mio paese, che abbiamo condiviso momenti bellissimi da ragazzi, da giovani, io ovviamente più giovane di lui, diciamo, anche se non sempre. Ed Carmine da diversi anni viene a Vieste ed è un momento per me molto importante e veramente ci tengo particolarmente alla sua presenza perché corre per ricordare il figlio Sergio ed è giusto che lo ricordi in questo modo perché Carmine è veramente un ragazzo dal cuore d'oro. Lui e la moglie sono due persone veramente speciali, corrono in tutta Italia e portano dappertutto il ricordo del figlio Sergio che era un ragazzo speciale. Io lo ringrazio personalmente per essere ormai da 4-5 anni sempre presente a questa manifestazione con la promessa che un giorno dovrà essere a Eboli durante la festa che farai e veremo insieme con Nicola a fare la gara a Eboli. Grazie Carmine. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.